Questa era una richiesta che avevamo fatto noi come Comturismo di dichiarare per una questione di immagine a vocazione turistica tutto il territorio della regione, dando la stessa dignità della città di Venezia, delle spiagge di Cortina, all'introterra e a tutte le bellezze che effettivamente ci sono nella regione Veneto. Quella volta ci è stato detto di no, adesso ci è stato proposto di dichiarare turistico tutto il territorio del Veneto solo per riporre la tasse di soggiorno in qualunque comune, a questo punto siamo noi che diciamo di no. Il Veneto è certamente una regione a vocazione turistica, la più importante in Italia in questo settore. Il turismo per la regione Veneto è essenziale, che poi questa vocazione turistica sia effettivamente di tutti i comuni bisognerà capire anche che cosa implica. Vai sul sito di New e comincia subito a partecipare!